Ciao, sono Fiorella, sono venuta qui dalla dottoressa Trabucco perché soffro ormai da diversi anni di reflusso, ernia iatale, dolori retrosternali, nausea e malgrado continuassi a prendere da diverso tempo, da diversi anni ormai gastroprotettori, anche con quelli comunque continuavo a stare male. Ho iniziato quasi da due mesi questa terapia e sono venuta fiduciosa ma anche un po' titubante, ma devo dire che mi sono accorta di essere praticamente guarita perché comunque sia non ho più problemi, anche se vado a cena fuori riesco anche a mangiare a bere cose che prima mi facevano male, come ad esempio il vino rosso che per me era deleterio, non riuscivo proprio a digerirlo e mi sono accorta proprio qualche sera fa che andando a cena non ho avuto nessun problema di digestione. Tra le altre cose, un problema che ho sempre avuto da sempre, da tutta la vita, non riuscivo a diglutire le compresse, quelle grandi diciamo e con mio grande stupore da qualche giorno ho iniziato a diglutire anche quelle, perfino intere. Prima le dovevo comunque spezzettare, schiacciare eccetera e adesso riesco perfino a diglutire queste. Quindi questa paura che avevo mi è passata completamente e sono stupita perché appunto non mi sarei mai aspettata una guarigione di questo tipo, superare addirittura questo problema delle pasticche e quindi non posso far altro che ringraziare la dottoressa Trabucco per quello che è riuscita a fare con me.